Così sei un reietto anche tu. Tutto sommato non è male avere questa cosa in comune. Ok signori miei, ben ritrovati sul canale, proseguiamo il nostro Killzone Shadow Fall. Abbiamo preso la nave e ce ne andiamo in questo postaccio. Insieme alla nostra... Michael Ghast qui che fa un po' la provolone. Porco caro, guarda la città vecchia sopra. Che figo. Solo? Boh, troppo tardi. Quella là non capisco. Macca puttana. Sta cavendo tutto? Eh sì. Direi di sì, è da vedere... Devo proprio dire che è fico. Non poco. Ah, tutti i container. Ho preso il controllo. Ecco. Ecco, sono Kella, tutto bene? Ecco, mi ricevi? Cosa sto facendo? Sto cadendo o sto fluttuando? Ah, mi sta risucchiando in alto. Ma che cacchio... E' uno di quei flussi azzurri che abbiamo usato... Che usavamo prima... Per svolazzare ogni tanto nelle fasi terrestri, diciamo così. Madonna, ma mi fai schiantare? Non lo so, ci mette due anni a muoversi. Manovre evasive, missili in arrivo! Anche? No, 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 no. Ma io non posso fare manovre evasive, sono lento. Ah. Ah, io mi schianto. Oh, Cristo. Beh, i missili, complimenti. Sì, li hanno presi... Marchiati Fisher-Price. Guarda con... Eh, sto guardando con... Oddio, sparo adesso! È vero. Per muoverti di slancio, vabbè. Chiamiamolo slancio. Beh, questi esplodono sicuro. Aia! Non so se devo farlo, ma penso che sia cosa giusta. Se magari all'interno dell'arma la stiamo distruggendo. E poi è fico, quindi lo faccio. Aia! Ah! Manovre evasive, dimmelo ancora, dai. Oh, ma... No, ma questo è uno scoppio, eh. Guarda, bastardo, dov'è? Se esplodesse, magari... Aia! Nasconditi qua dietro, un attimo, che ci riprendiamo. Intanto facciamo esplodere qua. Ah, ci sono ste torri... A parte che qua c'è della gente. Tra l'altro. Facciamo fuori tutti. Esplosa. Quelle torri lì che rompono, dai! Sì, ma puoi essere così dura. Figa. Sono voluti, vai di colpi. Giuro! Vai, con le tre dita, sempre. Dov'entrare, Cristo Santo. Vai, pressurizza. Grande. No! Di qua. Andiamo su. Che brutto non poter guardarmi in giro mentre salgo una scala. Ma è fastidio. Non so cosa mi aspetta sopra la testa. Mi viene il panico. Ed ora mi butto? Ma sì, che cazzo me ne frega. C'era... Brutto segno, ragazzi. Quando arrivate in una zona dove la grafica vi sembra più pulita, e soprattutto trovate un corridoio, comunque una stanza piena di ogni ben di Dio, è sempre sinonimo di boss. Sempre. Allora, prendiamo... A parte che stanno volando, quelle granate lì. E anche questo non è mai buon segno. Qua che cosa c'è? Ci sono le granate frag. Un sacco di cure. Eh, io... Io starei così. Non posso cambiare sta merda. Questo che cos'è? Il voltage. Ah, è quello che piace mai. Tum, tum, tum. Esatto. Vai, io prenderei questo, allora. Era abbastanza ficoso. Vai. Sa che c'è l'ultimo boss, eh, signori? Magari no. Ah, intanto però aspetto tanti. Porca troia. Ma perché non spara? Ragazzi, non spara. Non so che cazzo sia successo. Non spara. Porca puttana. Porca troia. Porca troia. Cioè, ho preso sull'arma che mi piaceva a me e non spara. Riproviamo. Non spara. Non spara, ragazzi. Non so perché. No, ma c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va. Non spara. Spara quando vuole lei. Scusami, ma... No, questa va benissimo. Non lo so. Questa è un'arma nuova. Sembra una mega magnum che forse potrebbe darmi più soddisfazione che questo spara arantoli che... ...fa quello che vuole lui. più lenta, ma mi raccomando. Eh, ho capito, ma non sciotta. Pensavo sciottasse. No, non va bene. Va bene perché è stra lenta. Solo faccio. E amen. Non c'è un po'. Non c'è un po'. Vai. Complimenti. Dai, ti prego. Dai, ti prego. Che cosa vogliamo? Il cane di Frye. Perché lo vogliamo? Il cane di Frye. No. Sta arrivando gentaglia. Cristo. Sì, tanta gentaglia. Come al solito. Guarda, non è mai successo in questo gioco. Strano. Eh, quelli che lo scudo poi. Fini colpi. Ma qua c'è una bella cassetta che mi farà stare bene. Grazie. Basta, genti. Vai, vaci tu. Guarda se c'è dell'adrenalina. Tipo qua. Cazzo, è esploso. Bagno. Toh. Dammi qua. La uso io questa. Se la sono riscaldata, minghie. Dai. Mi beccano. No, io scappo. Non me ne frega niente. Merda, ma non si apre più. Cristo, pensavo... Merda. No, ero venuto qua ai 2000. Prendi la droga. Raccogli questa. Basta. Eh, non la aprono più, no? Non è qui la via. Devo proprio sorbirmi tutte le orde. Che palle. E si è richiuso. Ho trovato dell'adrenalina. Ok, c'è qua. No, dovevo proprio ucciderli tutti stavolta. Madonna. Adesso faccio esplodere questi. C'ho paura a tenerli lì. Ok. Dossier. Ma ce n'è uno per parte? Devo prendere... Cosa devo fare? Eh no, si vede che la parte giusta è di là. Qua c'era solo il collezionabile. Dammi questa, allora. Faccio più colpi. Vabbè, almeno, dai, non è stata così... Rompi balle. Poi rompo... Bah, fine. Però è un peccato, perché guarda che roba. C'è delle vedute che... Spettacolare. Proprio un gameplay un po'... Pesante. Cioè, vai che fica l'ombra. È bellissimo. Solo che la via non è questa. La via non è questa. Quindi, signori miei... Eccola qua. Dov'era. Oddio. Ah! Madaglia. Materni. Non è esattamente così, ma... Presupposti per un secolo. Senato dalla parte sbagliata, Marshall. Saranno altri. Trenteranno il boss. E alla fine... Vinceremo! Sì. Va bene. E' bello anche arrivare. Oh! Eccomi qua. Ma... Il distruttore. Ho venuto un trofeo. Ma sei malatissimo! Stau! Perchè eravate molto forti. Ora... Aspetto a voi affrontare la medesima sorte. Nella storia del Targo. Gli Ergast non vivranno all'ombra di Vett ancora a lungo. Che è stata la nostra amministra? No! Merda! Cuglione! L'ho detto che sarebbe stato lui l'ultimo. Scontato com'è. Saldi della cam. In passato questi bastardi hanno preso tutto entrambi. Come puoi smarrirti così, Lucas? Come puoi tradirmi così? Ogni giorno New Elgan rappresenta sempre più una minaccia. Ve l'ho dimostrato. Ora mostrerò come eliminare la minaccia. Per sempre. Ho sempre cercato di proteggerti. Ma non ci sono riusciti. E la madonna! Bastard. Glorious. New Elgan è una minaccia. Ma che cazzo... Ma come? No. No, no. Stiamo scherzando. Cioè, signori, questa è la fine. Che basta... No, ma ragazzi. Ma che figli... Questi sono... Sono dei... Vecta. Fa vedere. Sì. Quindi chi siamo? Siamo la tipa adesso? Cioè, Lucas è effettivamente morto? Signore, facciamo una cosa. Vediamoci nel prossimo appuntamento. Questo lo chiudiamo così perché è stata una cosa inaspettata e ci voleva. Perché un finale del genere proprio mi avrebbe fatto spezzare il disco in 36 punti. Io vi saluto, vi ringrazio e vi mando al prossimo video. Fico! Sì. 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 Sì.